Vado a Gigi, vado a Gigi Buonasera Ciao a te, buonasera Volevo ovviamente ringraziare tutti per aver partecipato Anche se deve iniziare Grazie a te per l'invito Grazie a voi fidatevi che è stato difficile Ma senza l'aiuto di ognuno di voi non sarebbe stato possibile Ovviamente Farvi un in bocca al lupo Perché sarà un mix complicato da affrontare Eh, abbiamo letto certi nomi Infatti ci stiamo preparando psicologicamente Io vi dico solo, noi non abbiamo neanche un landing Quindi state tranquilli Noi lo stavamo decidendo adesso Eh, ok, mitico, mitico Dai raga, in bocca al lupo Bene, anche a voi buona giornata Ciao, ciao Altrettanto Sì ragazzi, sono stato invitato e ho partecipato alla Stepney Cup E sì, sono stato ucciso da Mr. Savage Che è stato invitato come ospite speciale per questo torneo di Stepney Mr. Savage, per chi non lo sapesse È uno dei pro player più famosi e importanti Nonché uno dei più forti proprio della storia di Fortnite È veramente un mostro E ovviamente anche i suoi compagni Lo erano Il torneo era in Arena Trio Quindi ho partecipato in compagnia di Galpis e Santa È stato un torneo fuori di testa Infatti ringrazio veramente di cuore Stepney per avermi invitato È stato davvero un onore Ringrazio ovviamente anche Galp e Santa per aver giocato con me Nel video di oggi andrò a fare ovviamente un riassunto Di quelle che sono state le sei partite Sono successe cose incredibili Partite veramente pazzesche Ma prima di iniziare nel video come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto grande Tutto attaccato nel negozio oggetto di Fortnite Mi raccomando ragazzi È davvero fondamentale per supportarmi Quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT tutto grande Tutto attaccato anche perché ogni due settimane il codice scade dovete reinserirlo Grazie a vero di cuore a chi lo farà è davvero fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto Lasciatemi al mi piace per supportare il video Intanto vi lascio al primo game E come faccio di solito ogni volta che appunto faccio uscire dei riassunti per i tornei Ad ogni game interverrò spiegandovi alcune cose Regà vedo gente su Adesso non so Sì c'è gente Ma non so se stanno atterrando da noi Andando da noi sì sì Che facciamo? Andiamo alle casette? Andiamo alle casette Sì 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 Poi c'è una skin dei supereroi Sì sì no 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 assolutamente Fate quello che volete Noi non facciamo nulla Tutto bene Da ci sparano Da dove? È da Da piazza in Cudine mi sa Oh mio dio sì Eh andiamo dietro andiamo dietro Via 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 prima che pushino Gente Dove? 24 due volte Tre volte è craccato questo qui Ok E io l'ho mi tagliata Proviamo ad andare un attimo Proviamo 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 Se l'hai craccato Passa verso sinistra Eccolo eccolo lì su Ah occhio 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 sì sì C'è il team C'è il team Sì 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 no Beh quello sì No ok A posto via via Abbiamo preso danni Ah gli è mettato Vuoi minical Sì grazie Sì grazie Occhio occhio però venite Venite a fare di qua Andiamo di qua Eh mi iniziano Se copritevi dagli alberi Fatevi coprire dagli alberi Sì anche se però io continuerai ad allontanarmi Eh li vedevo Eh ahi e sì vabbè Orco cane Ma regà Siamo in un panino What the fuck Vediamoci un attimo Corriamoci No 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 Andiamo proprio giù di qua Regà andiamo giù di qua Mi hanno busciato dall'altra parte Sì 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 Via 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 Occhio occhio Dov'è? 13 a 1 Secondo me che sto curando Deviamo fare una guota Va davanti la montagnetta qui Ma vogliamo andare dietro? Eh no io non mi fighterei onestamente 37 due volte a 1 Ok Allora C'era un marasma bianco giù regà Stanno andando via Sì Ok a posto Ah l'isola è pure vicina Sì Eh però non lo so regà Io penso Cioè in realtà è un male il fatto che l'isola sia qui Regà No possiamo prendere tag se volano in realtà Eh sì però da là sopra credo che ci vedano proprio per bene Ok La prima è che R ce l'è solo tu con il problema Eh sì Guarda riguarda riguarda Eh boni regà Porca miseria Regà venite qua Venite qua Venite qua Facciamo il giro subito Venite Seguitemi Ok Oh c'è uno lì davanti Eh Ok Ah c'è un team Scherzato Ok 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 Ma non entra nei golpi Dobbiamo correre Occhio è lì Occhio Occhio E l'amatosca No sono morto Non mi builda Non ci credo Eh raga io ho girato per di qua Vabbè vabbè Ma quanto lag No ma io pure stavo laggando un botto Cioè ma poi siamo 169 sopra Santa mettiamoci dentro noi sti cespugli bravo Eh son qua io Per forza No ti ha visto No ti prego Prova ad andare via GG che se no Eh lo so Eh Mi pushano Questo è un problema Vai provo ad ucciderlo GG Ma quanto mi sta laggando No raga Ma proprio c'è Un botto Ma mi tagga al sur Sono morto Ah sotto siamo Bene Bravissimo bravissimo No raga ma quanto sto laggando Ma io non ho capito Cioè Ma com'è possibile che sto lagga così tanto C'è la slurp Basta Ho capito Ho la gambotta Anche tipo lo spectre ce l'ho tutto buggato Vabbè che loot aveva sto qua Eh ciao Morto Non puoi buildare Assurdo No ma No ma io stavo laggando un botto raga eh Mamma mia comunque pure Cioè loro Si vede che laggano Perché si vede che laggano pure loro Ma riescono comunque a buildare e editare Cioè è pazzesco Ma perché loro sono strabituati Certo Certo no Quello è ovvio Ma è pazzesca sta cosa Cioè sono 39 raga Cioè ma veramente le work up eh Ovviamente ragazzi in questa parte finale della clip che avete appena visto Stavo spettando Mr Savage Perché ogni volta che morivo andavo a spettare tra le live degli altri Quello che stavano facendo i giocatori che arrivavano sempre in endgame Ora immediatamente possiamo notare due elementi fondamentali Il primo è che è un torneo difficilissimo Nomi importantissimi tra pro player italiani E come avete visto anche pro player esteri Un livello altissimo Non ci potevamo scoprire un attimo che venivamo immediatamente laserati In endgame si arrivava tranquillamente in 40-50 In quelle che sono veramente un buco così Roba che quasi neanche alle work up si vede una cosa del genere E quindi di conseguenza parte lo Storm Surge Ora già lo so che molti me lo chiederanno Piccola parentesi su cos'è lo Storm Surge Epic per rendere ovviamente questi tornei Dove tutti i camp erano un po' più attivi Così da costringere i giocatori a pushare un minimo Ha creato questa meccanica che appunto si chiama Storm Surge Praticamente arrivati a un certo punto della partita Bisogna essere al di sotto di un numero tot di giocatori Per esempio alla tempesta numero 6 Bisogna essere in meno di 50 Sto facendo un esempio Se in quel momento ci sono più di 50 giocatori Tutti quelli in più che hanno fatto meno danni Verranno colpiti da questo Storm Surge Cioè voi anche se siete dentro la safe Verrete colpiti e vi farà un sacco di danno questo Storm Surge Arriva tipo come un fulmine viola che vi colpisce Quindi la gente durante la partita È invogliata a sparare comunque A cercarsi un minimo per colpire gli avversari Ed è proprio per questo che vedete queste mega torri gigantesche altissime Perché molti giocatori si mettono lì su E cercano di vedere gente da hittare da lontano Ma non per ucciderla per poi pusharla Semplicemente per fare delle hit E fare un bel po' di danni Per non essere poi colpiti in endgame Dallo Storm Surge E questa cosa ovviamente si attiva solo in questi tornei Veramente complicati Anche se però attenzione Lo Storm Surge c'è sempre su Fortnite In ogni partita anche nelle pubbliche normali Solo che ovviamente nelle pubbliche normali Non ci sono queste situazioni dove in 60 giocatori Si arriva in endgame E quindi non si attiva mai Chiusa parentesi dello Storm Surge Comunque altra cosa che si è notata particolarmente tanto È che pure io con un PC della madonna Possiamo dirlo un PC della madonna Laggavo in endgame Ma neanche in endgame Cioè anche alla metà fine del game Perché eravamo in 60-70 E veramente facevo fatica a buildare Molti giocatori abituati a questo lag dell'endgame Chiaramente riuscivano a giocare proprio tranquillamente Come se nulla fosse Davvero pazzesca sta cosa Che i giocatori si abituano anche a lag Assurdo Vabbè comunque come avete visto Facevamo davvero tanta tanta fatica Il livello era altissimo E per dovere di cronaca Sostanzialmente vi andrò a tagliare Quasi sempre lo start del game Perché siamo atterrati sempre lì Dove siamo atterrati in questa partita Quindi diciamo che L'inizio dei game Ve li taglio sempre Oh ci sparano Ok ok scendete dove dicevo io Che tanto ci stanno le montagne Ok E non sprechiamo maz E ce ne andiamo verso dritti lì No mi taggano da dietro Da dietro da dietro Quelli su che avevo pingato prima Ok Sì no stiamo Allora rega dobbiamo andare di qua No fermi fermi Prima bariglia Sennò qua rischiamo di morire davvero Ok vai Ma non c'è Oh ma quelli stanno aspettando me quelli oh Cioè manco apro Ma io non ho parole Sennò Eh quelli Sì vabbè Ma vaffan Cubo Lo riprendo Ma sì Vabbè Rega c'ho un barilotto Venite Ok Eh non ho parole Cioè ma che mira c'hanno Cioè ma di che parliamo Guarda qua davanti ci sono le chiavi Eh sì Sì Possiamo provare È il punto di prima È quello delle Delle catane Eh ok 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 Puoi mancarsi in zona Eh sì No 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 Non andiamo lì Non andiamo lì Ok ok E allora andiamo qui dritti per dritti Raga Aspetta che Rivoio prendere lo scudo Sì Ma Eh te dubbi No rega stanno qua sopra Niente 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 No rega ma non c'è C'è Eh sì Ma no ragazzi What the fuck 120 a 1 Bro No 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 Sono troppi Non ci credo Zid Vabbè Porca miseria Cioè manco sono uscito che bam Ecco E qui ovviamente avete appena notato come non potevamo fare un minimo errore Qui ovviamente ho sbagliato totalmente io Per un attimo mi sono dimenticato che Calpi era stato appena colpito E che quindi si sta venendo a rifare lo shield all'interno del box E io con l'ansia della tempesta ho preso e sono uscito Dico vabbè dai riesco almeno ad andare un po' avanti Sondo il terreno e poi faccio venire i miei compagni Manco l'ho detto Bam Laserata Clamorosa Che non mi hanno lasciato scampo E quindi poi in 3 contro 2 purtroppo anche i miei compagni non ce l'hanno fatta Però ecco questo è proprio il mood del game eh Tutti che cercano comunque di dare quelle ittine Di rimanere in alto Anche da lontanissimo hittare la gente Veramente veramente tosto Eravamo con l'ansia in ogni istante No occhio raga Cioè da dove eh? Eh da dove Quelli sempre sopra Quelli sopra raga Stanno pushando Stanno pushando No non è vero 62 Ficato Occhio 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 Via 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 Sono medikit Però andiamo via prima Oppure vabbè no Tieni No vabbè sono lontani però Occhio occhio Oh Altra gente qui davanti Morto morto uno Bravissimo Ma sempre lui Killiamo ma no 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 Regà 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 Boni Non rimanete scoperti per nessuna ragione al mondo C'ho il barilotto No 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 Non scoperti per nessuna ragione al mondo Regà 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 boni Non picchiamo Tanto ormai non si Eh porca miseria Guardano tutti comunque Eh per quello che sto a dire Facciamo il barile? Facciamo il barile Sì 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 Però regà Non usciamo neanche più tanto Con la kill Quello e quell'altro Non È impossibile No l'ho tolti Però c'ho due succhi Non ci credo No è proprio sull'isola Ed è sull'isola Dai vabbè però c'è stata di pure sfiga con l'isola Io vi devo ricordare che nella prima partita Ci abbiamo avuto l'isola accanto E quindi però siamo venuti tutti lì Sì Cioè ci sta di abbastanza male Non lamentiamoci Pensiamo cosa fare No Calpi Calpi La prima regola è lamentarsi Per favore No 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 Dopo 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 ci lamentiamo Ma che voglio no Eh Calpi builda tu poi te li ritroppo io Sì sì tranquilli Sì 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 tranquillo No anche da davanti Da davanti Che occhio Madonna quanta roba dovevo usare Eh ma per forza Veloci veloci qui Ottimo 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 Occhio che c'hai dei box davanti eh Sì sì Dai non è possibile Sì però l'isola qui io direi che è un po' scam Occhio c'è spuglio Ok Guardate se c'è spuglio No da sopra l'isola regà Stanno già sull'isola Sì sì Regà copritemi Copritemi Dobbiamo fare pochi metri Dobbiamo fa Venite qua Venite qua Venite qua c'è spuglio Ci facciamo il bibitone Eh io ce l'ho Eh per forza Però se facciamo il bibitone io buildo eh Cioè ci vedono Vai vai Sì sì c'è gente qui Trento ha craccato Eh 38 white Questo qua deve morire Morto 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 Bravissimo calpi Bravissimo Altri 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 Sono altre kill Sono altre kill Eh non li vedo zio pera Adesso devono arrivare Adesso devono arrivare Guardateli Occhio alla safe Occhio alla safe Picchiamo così È qua dentro? Sì sì è lì dentro Ah sì qua sotto pure Abbiamo un box qua sotto Ok ok Oddio quel succhetto Me lo andrei quasi a prendere Sì sì Quanto fa? Fa uno easy Ok Ma sono sei Sei dove? Sei su chi? Ah ok Rega 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 qui 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 Dobbiamo ucciderli noi Quinto colpo Sì infatti un attimo Di calma Vai fai le tue Vediamo C'abbiamo C'abbiamo qua a destra Sì Occhio all'isola Sempre C'è attentissimi Giu giù 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 Dai su Ma io sto già lagando rega Io no Siamo quasi in safe Siamo quasi in safe Ottimo Possiamo stare qua sotto No non è in safe Dobbiamo salire Ma tu hai la spada santa No 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 Ok Tu sì? Io sì Ok Top No Ok perfetto Perfettissimo Guardate raga E adesso guardiamo dietro Se c'è Quello di prima Pochissimo Ecco Eccolo Ci lo vedo Lo vedo Dobbiamo ucciderlo noi No No Non ci credo Un botto di loot Aspen In teoria dovrebbe essere Un alto Quanto danno fa l'Adena Ma non possiamo No 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 Troppo rischioso Ok Ok Occio sempre quelli sopra Vabbè Ho cinque C'ho poche mazze Se siamo safe qui Fermiamoci qui Calpi Sì sì Così Io ho pochi mazze Eh io pure Io ne ho veramente pochi Occio che spammano questi qui Sì Non so se tutti tutti Ok Regà non aprite Non aprite Non aprite Dobbiamo ruotare Dobbiamo ruotare Regà Eh regà A me non mi edita Cioè vi giuro Guardate qua sotto Ho 17 Non ho veramente più materiali Sono dentro Ok anch'io No da dove Ma mi hanno distrutto Ma che non mi hanno dato qui No 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 Ho 80 mazze Sì di dietro Vai dietro C'eravamo pure 800 sopra Regà di danni C'è scollegato No Eva No regà dai No parole però Che fai che sfiga Ok dai Questa partita Siamo andati già meglio Anche perché fare punti Era davvero difficile Era un punto a kill Ma come avete visto Fare kill Era qualcosa di impossibile Giusto in endgame Si riuscirono a fare un po' di cose Ma è veramente pazzesco E i posizionamenti ragazzi Partivano dalla 17esima posizione in poi E come avete visto Per beccarsi a 17esima posizione Bisogna arrivare proprio In end 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 game Perché sennò Non beccavi i punti Va detto che però Ci ha detto molto male Con l'isola di Lutlake L'isola 8 Che spona con la frattura Verso fine partita Perché sponava sempre Nel punto peggiore per noi Tipo in questa partita Sponata lì Nella safe Proprio dove dovevamo Entrare noi E voi considerate Che la maggior parte Dei player forti Dei team forti Andava proprio lì sopra Per prendersi L'assalto mitico O comunque per prendere L'altezza Quindi ci si mettevano Sempre persone forti E come avete visto Ogni volta ci sparavano Un botto E' successo anche Nella prima partita E succederà anche Nelle prossime Quindi siamo stati Anche un po' sfortunati Questo va detto Perché poi Dopo che devi usare Una marea di materiale Per difenderti Da quelli che stanno in alto Praticamente non è più Per l'end game Avete visto Calpi e Santa Non avevano più materiali Io ho fatto un po' Un casino tra lag Anzi eccetera Non sono riuscito A coprirmi bene Ma tanto comunque Ho finito i materiali Quindi da lì a poco Sarei morto E quindi niente Stisola di Lutle Che non mi ha aiutato Veramente Veramente per nulla E tra l'altro Piccole informazioni di servizio Durante la stagione Dovrebbero arrivare Anche più punti del genere Che dovrebbero spawnare In cielo Staremo a vedere Se proprio con l'aggiornamento Di oggi Ne arriverà uno nuovo Eeeh Ok perfetto Calpi Ma tanto te lo tieni Ce l'hai lo spazio? No Ok Oh no da sinistra? Ma no ci hanno proprio Pusciato regà Ci hanno pusciato Sì 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 Ok Vai Faitiamo Faitiamo E ormai per forza Va vabbè Sono da dietro io Ho finito di mazza Stanno cenando in due Eeeh Io ho finito di mazza regà Io vado a pusciare uno No sono in due da me Regà a terra uno Bravissimo Bravissimo Aiuto regà E porca misera Non lo piglio E' morto uno Mi ha atterrato l'altro Mi ha atterrato l'altro Manca uno Manca uno Tittato Rottocilla E' morto E' morto E' morto Let's go Let's go Bravi 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 Adesso regà Occhio Se riuscite a riuscite a ributtare Bene No per forza Dobbiamo riuscire a ributtare Se no Macello Stanno lì Ok 28 Io vado eh Cioè comunque pingo Vieni qua Calvi Sì 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 ovvio Eh ma ci stanno busciando con le catane Regà c'abbiamo qua dietro gente con le catane 53 a 1 Vieni qua Calvi Vieni qua Gigi è un ottimo Ok 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 Stanno qui stanno Arrivo Arriviamo Questo sta tunnellando qua sotto Vi sta entrando in città da qui eh È entrato in città da qui Saliamo? Sì saliamo Ci mette un quarto d'ora Ci mette un quarto d'ora Regà arrivano tutti qui eh Non fa niente A sto giro saliamo Gigi Proviamo Cioè spera dobbiamo vincere Proviamo Proviamo Malchiamata andiamo via Ok andiamo su Subito Eh mi laserano Ok Sono morto Oh oh anche io sono quasi morto Oh eh c'è gente Ok Fermi 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 Vieni qua Gigi Vieni qua Gigi Eh mi sa che conviene da sciogliere Eh no regà Cioè ce ne dobbiamo andare Ma ve l'ho detto raga È improponibile l'isola Madonna subito No ma perché ci mette tanto a sponare Quindi questi arrivano con le catane e via Gigi magari scendi con la ziplia No no sì sì io scendo subito E prendi il rift qui regà Io prendo il rift Ok fermo un attimo Che ci ricarichiamo Appena abbiamo di nuovo le tre cariche Andiamo Gigi se riesci a partire ora Noi cerchiamo di coprirci Sì sì no ma io sono già partito Ma mi hanno già pure bello che la serata Tranquillo 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 Vai 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 Va bene così va bene così Guardate gli altri con le spade Ok Ora se poi ripartiamo Sì 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 Ok andiamo andiamo di spade Ok ci siamo Ci siamo Ottimo Gigi ti manca poco poco Sì sì arrivo No no arrivo 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 Tranquillo Ottimo Ottimo Ti apro Ti apro la macchina Aspetta Santa vieni qua che dobbiamo partire con le spade No loro ce l'hanno libro Devi provare Ok Ragazzi provo a fa qualche kill No me l'hanno rubato Non c'è Non c'è In mezzo secondo In mezzo secondo regà Eh il team di Savage regà In mezzo secondo Ed eccolo Questo è stato il momento in cui sono stato laserato dal team di Mr Savage E ovviamente mi ha ucciso uno dei suoi compagni Non mi hanno lasciato il tempo neanche di buildare un muro Perché mi hanno laserato in due secondi Stavo anche laggando Ma tanto anche se non avessi laggato Sarebbe cambiato ben poco Peccato per quella kill che stavo per rubare lì E invece poi non sono riuscito a concretizzarla Ora vi lascio l'endgame di Santa e Calpi Che loro qualcosa invece sono riusciti a fare Eh Santa vengo da te L'avevo fatto una idea Aspetta ok Tiafro? Sì 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 ci sono ci sono ci sono Ottimo 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 Eh problema Fatevegli affari vostri state 448 sopra regà Infatti Possiamo solo guardare se Occhio a questi occhio a questi Regà se riuscivo a fa' quella kill Quello c'aveva pure la katana Lagga un botto C'era un prendegli edit No sì io pure stavo laggando un sacco Buona 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 Chi spamma qua Oh oh Uno è morto qui Ok Adesso col bugile d'assalto mi ci pulisco Eh sì Ora è brutto Damma mia in 40 regà Mi serve una mitraglietta Eh 41 Dobbiamo andare? Eh sì Ok No era bianco Sì sì cercare di stare più chill possibili regà Cerca di stare più chill possibili Eh moriamo però No no Faccio lo smash Occhio 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 Ho stra poca vita Hai mini Sì sì Avanti eh Sì sì Vai vai Parti parti pure Ma com'è possibile Ma com'è possibile che siamo andati 620 sotto? Scuso? Sì c'ha bello No Ma com'è possibile che siamo andati così tanto sotto regà? Eh non lo so Bravo santa Eh la madonna Dai regà Ma com'è possibile ancora qui? Sì Allora innanzitutto ricordatevi bene quelli che abbiamo killato all'inizio di questo game Perché ci servirà anche per la prossima partita purtroppo Comunque grandi kill lì all'inizio anche perché questo team era veramente forte Siamo riusciti comunque a killarli nonostante ci avessero pushato loro e ci avessero laserato inizialmente E poi devo dire che siamo riusciti a fare una buona partita arrivando fino all'endgame Nuovamente l'isola Vabbè stavolta ci abbiamo un po' provato Siamo saliti su loot lake abbiamo cercato di fare qualcosa ma come avete visto era impossibile Non so neanche come abbiamo fatto a scappare Sprecati però comunque una marea di materiali Siamo riusciti ad arrivare in un modo o nell'altro in endgame Io poi ovviamente senza spada purtroppo sono morto Chiaramente lasciavo la katana sempre a calpe santa che almeno cercavano di risolvere la situazione L'ho sempre lasciata a loro e purtroppo non ne abbiamo mai trovate tre E devo dire che fanno la differenza ragazzi Soprattutto poi in endgame per ruotare veramente la katana serviva troppo Tant'è che poi i team riuscirono a fare tanti punti e arrivare sempre alla fine Avevano sempre la katana Perché ti permette di risparmiare materiali e di muoverti più velocemente Finalmente Infatti noi cercavamo di andare molto a nord nella mappa Per evitare tutti i team di pro che invece andavano a sud Nella zona quella nuova asiatica dove ci sono più spade E vabbè comunque detto questo Buona partita tutto sommato Peccato per le sole tre kill Cioè clamoroso che non siamo riusciti a killare nessuno in endgame Uno me l'hanno mezzo rubato anche se in realtà lo stavo per rubare io Calpi pure in due occasioni era quasi riuscito a killare Insomma peccato Peccato perché poteva andare molto meglio questo game E ribadisco peccato per le katane Che comunque nelle ceste per terra si potrebbero trovare Ma noi l'abbiamo trovata veramente di rado Comunque passiamo a quello che è il penultimo game E ribadisco Ricordatevi bene quelli che abbiamo killato a inizio di questo game Questi sicuramente se vogliono venire a prendere la vendetta Già ci ha guardato due o tre volte Se sono girati due o tre volte Davvero Stanno già arrivando Stanno già arrivando Stanno lì sopra Ok Andiamo via Andiamo via Sì 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 Andiamo di qua Ci stavano guardando troppo No 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 da dietro Occhio occhio Dov'è? Dov'è? No ma questo mi ha fatto il giro qui Sta qua sotto C'era uno qua sotto Arrivo regà Non botto addosso Eh No regà sono lontanissimo io Eh vabbè Resistete Eh ci provo Ah ne ha uno lì? 34 due volte? Eh regà a me ma no No di tutto Ho cerchiato Arrivo arrivo GG Stiamo arrivando Stiamo arrivando Gli ho rotto lo shield ma No ma mi ero coperto Eh vabbè No Ecco sono quelli di prima Sì sì Sono loro Sono loro Esatto ragazzi Quello che temevamo A inizio game Si è avverato Ovvero Era il team di prima Quindi quello che atterrava Piazza Incudine E che ci aveva pushato Nel game di prima E che avevamo ucciso Che ci avevano puntato Cioè nel senso Loro hanno fatto come al solito Quindi sono atterrati A Piazza Incudine Hanno preso le prime armi Che hanno trovato E poi ci hanno pushati Cosa che tra parentesi Non ha neanche molto senso In questi tornei fare Perché? Perché ok Ci hai pushato e ci hai killato Ma quanti materiali C'hai adesso? Quante munizioni hai? C'era molto pericolosa La giocata che hanno fatto Perché ti capita Che magari te dice male Vicino a noi Magari c'era un altro team Che settendo gli spari Si avvicinava Loro comunque Li abbiamo lasciati messi male Probabilmente Se li sarebbero uccisi Poi vabbè Probabilmente gli ha detto bene E non hanno avuto nessun altro Che l'ha pushati Dopo che hanno killato noi Però di fatto È stata una cosa Quasi per ripicca Che poi La cosa divertente È che nella partita prima Comunque ci avevano pushato loro Poi per carità Se la sono legata al dito Va bene Probabilmente avevano visto Che ci avrebbero potuto killare Perché quasi sicuramente Erano più forti loro Quindi avranno visto Tre giocatori Di un livello più basso di loro E quindi si saranno voluti Venire a fare le tre kill Però noi ormai Ci eravamo già spostati Ci eravamo allontanati Un conto è che Rimanavamo lì vicino Allora ci provi a pushare Un conto è che Ci insegui proprio Senza aver lutato Per bene la tua città Cioè non so se avete capito bene Il concetto È troppo rischioso Muoversi in questo modo Per pushare Senza troppi materiali Senza troppe munizioni E magari con le prime armi Che hai trovato a terra Tant'è che uno M'ha killato col pump bianco Poi per carità Tutti vogliono il marasma E comunque aveva il marasma Però diciamo Che era una mossa Un po' Sì Senza senso Letteralmente Tra l'altro Si stavano giocando Sono anche le prime posizioni Questi Quindi proprio Non ci aveva tanto senso Però vabbè Ci avevano puntati Anche se era la Stepnikup Quindi una roba per la community La tensione era altissima La gente voleva vincere E quindi comunque Capisco Certe dinamiche Però ecco Mi piaceva raccontarvi Questa cosa Perché sì Da un certo punto di vista Ce lo aspettavamo Ed era per quello Che ci siamo mossi subito E ci siamo allontanati immediatamente Dall'altra però Ho detto Dai ma ti pare Ma ti pare Che fanno una cosa del genere E l'hanno fatto L'hanno fatto Va bene E quindi niente E' una partita purtroppo Andata così Anche perché comunque Come ti hai visto Ci hanno pushato dalle spalle Eravamo un po' divisi Proprio perché sì Ce lo aspettavamo Ma fino a un certo punto Hanno accerchiato prima Santa Poi hanno accerchiato me E quindi poi Non siamo riusciti a fare Più nulla Sarei stato curioso Di fare un bel fight Un po' più bilanciato Cosa che comunque Non era stato neanche Quello di prima Perché anche quello di prima Ribadisco Ci hanno pushato loro E ci hanno laserato Prima di pusharci Però comunque Nonostante tutto Si vedeva che fossero più forti di noi Però insomma Cioè Ce la potevamo giocare No ci avrebbero bombati lo stesso Però Rip Speravo non facesse una cosa del genere Può stare stare Stanno rebuttando Vai vai Andiamo 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 No Dov'è che è? Qui 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 Vai lì No regà Chi l'ha messa sta cosa? No Hanno appena rebuttato Hanno appena rebuttato Vabbè Ha solo la pistolina uno No Ma da dove è arrivato quell'altro? Allora ragazzi Ve lo giuro Ve lo giuro Il torneo non è andato bene Ma comunque ero soddisfatto Ero contento di partecipare Sono stato contentissimo Quando Stepney mi ha invitato Ed ero molto gasato Dal fatto di poterlo giocare con Calpi Sessanta Pro perché mi diverto molto A giocare con loro Quindi vi giuro Fino a quest'ultima partita Per me andava bene tutto Ero tranquillo Nonostante quello che è successo Nella quinta partita Ma quello che è successo In questa sesta partita Ragazzi Vi giuro Non me lo perdono Ho fatto un errore Proprio da principiante Io non essendo abituato A giocare in trio O in quattro Insomma in squad Ma al massimo Magari gioco in duo Con Serena E raramente Gioco con altre persone Proprio Cioè tante volte Faccio degli errori Di quelle scelte Proprio che dovete fare rapidamente Quindi tipo Nella mia testa Io ho visto quello lì Da solo nel box Dico boh Lo pusho Me lo faccio Anche perché appena rebuttato Non saranno messi benissimo Invece ovviamente C'era anche il compagno E quindi poi mi hanno bombato Tra l'altro In due Sante e Calpi Se li stavano per fare Solo che poi raga Vi ho tagliato le immagini Perché il fight Non è stato bellissimo Calpi purtroppo A un certo punto È caduto Quindi è mezzo morto Di caduta E quindi poi Santa da solo Non è riuscito a fare niente Però raga Vi giuro Non ho Ovviamente Non ho nessun rammarico Per il torneo Non me ne frega nulla Ero soddisfattissimo Mi ero divertito un botto Ma quest'ultima partita Ragazzi Veramente Mamma mia Non doveva finire così Vi giuro Sto rosicando malissimo Abbiamo veramente Sprecato un'ottima opportunità Perché queste erano Tre kill Veramente facili da fare Con quello che era Stato rebuttato Ventitresimo posto Gigi Calpi Sessanta Ventiduesimo posto Rekings Zid E Simone Che sarebbe Kaigots E poi arriviamo noi Però che è già incredibile Perché siamo sopra Rekings Zid E Kaigots Che erano tutti e tre Pro player E si Da quello che avete sentito Da Stepney Siamo arrivati Ventitresimi Su 33 team Quindi non proprio Un ottimo posizionamento Però ci terrei a specificare Una cosa Che era quello che stava Specificando anche ste Cioè Praticamente Il team di Zid Rekings E Kaigots Praticamente è arrivato In quelle posizioni lì Comunque un team Di tutto rispetto Di tre che erano pro player Erano probabilmente Tra i più forti in Italia Fino a qualche anno fa Quindi gente di un certo livello Ora non so se stanno Continuando a competere Però non credo O non so se magari Uno di loro Non lo so sinceramente Perché il competitive Fortinet Non lo seguo tantissimo Però capite che Se un team formato Da loro tre Quindi tutti e tre Di un certo livello Arriva così sotto Capite che Il livello del torneo Era veramente altissimo Ma proprio alto 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 E quindi Niente ragazzi Vabbè mi sono divertito un sacco Ringrazio veramente ancora Di cuore Stepney Perché per me è stato Un piacere incredibile Questa è la classifica finale Degli undici Che sono arrivati a premio Quindi che hanno fatto Earnings Che quindi andranno a prendere Un po' di soldini Ho lasciato qui la classifica Perché tanto so che qualcuno Me l'avrebbe chiesto Noi appunto siamo andati I ventitresimi Almeno Almeno siamo stati killati Diverse volte Da veri pro player Perché una volta Mi ha killato Ardi Un'altra volta Mi ha killato il team di Savage Altre volte pure Siamo stati killati Da team fortissimi Quindi anche questa È stata una figata pazzesca Finalmente ho preso Le pizze Da dei pro player seri E niente ragazzi Mi sono divertito Veramente molto Spero che il video Vi sia piaciuto Ringrazio ovviamente Ancora Calpi e Santa Per aver partecipato con me E ribadisco Ancora un immenso Grazie a Stepney È stato veramente fantastico Partecipare Vi ricordo ovviamente Il codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato Al negozio oggetti di Fortnite Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Lasciate un bel mi piace Vi ricordo che vi aspetto Il live su Twitch Quest'oggi Vi lascio il link In descrizione Quindi mi raccomando Poi ovviamente sul canale Usciranno anche altri video Inerenti all'aggiornamento E alle novità Speriamo siano tanti Che arriveranno Per me è tutto Ci ritroviamo dopo il live O dopo con altri video Oppure direttamente Nei prossimi giorni Ciao ragazzuali